Meglio se fai il video tipo così Sentite, meglio mentre scappavo E' successo Un imprevisto Cioè questo imprevisto E' successo perchè io stavo scappando E in pratica Non so come si è bloccato E intanto adesso Ragazzi Sì Ok E va Ragazzi Ragazzi Sarà molto difficile Rennare tutti Supertizio Non riusci mai Adesso me ne sto Tranquillo Non riusci mai Non riusci mai